Longin Legend Iver, storia, design e stelle che lo indossano. Il Longin Legend Iver è un'icona nel mondo degli orologi da polso, un modello che incarna l'eleganza e la robustezza, con radici profonde nella storia dell'orologeria svizzera. Questo orologio subacqueo era stato originariamente progettato per i professionisti dell'immersione, ma ha conquistato rapidamente anche gli appassionati di orologi per il suo design attraente e la sua affidabilità. Il Longin Legend Iver è un orologio automatico con una cassa in acciaio inossidabile che misura generalmente 36 o 42 mm di diametro. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi e ha una resistenza all'acqua di 300 metri, il che lo rende perfetto per l'immersione subacquea. Una delle caratteristiche più riconoscibili di questo orologio è la sua ghiera girevole unidirezionale, utilizzata per misurare il tempo trascorso durante le immersioni. La corona a vite e il fondello inciso con un'immagine del subacqueo lo rendono unico. Il Longin Legend Iver ha conquistato il polso di molte celebrità nel corso degli anni. La sua eleganza classica ha reso il Legend Iver una scelta perfetta per il grande schermo e per la sua vita quotidiana. In sintesi, il Longin Legend Iver è un'icona dell'orologeria svizzera con una storia ricca e un design attraente che continua a catturare l'attenzione degli appassionati di orologi di tutto il mondo. Le sue caratteristiche tecniche, la sua eleganza e le storie di celebrità e record lo rendono un oggetto di desiderio per gli amanti degli orologi e un simbolo di prestigio. Se sei alla ricerca di un orologio che unisca la bellezza del design vintage alla funzionalità subacquea di alto livello, il Longin Legend Iver è sicuramente una scelta da considerare. Con la sua storia e il suo fascino senza tempo, questo orologio continuerà a essere un'icona nell'universo dell'orologeria per molti anni a venire.